E' arrivato ed è stato un grande successo il primo Motor Show 4x4 di Porto Sant'Elpidio, due giorni legati allo sport e al divertimento più puro accompagnati da esibizioni, test drive, musica e ristorazione. Insomma tutto il necessario per trascorrere un weekend alla grande. Questo innanzitutto è un Motor Show dove c'è show, vero, perché c'è stato uno show musicale, c'è stato del cabaret, abbiamo tutta un'area attrezzata per i bambini, mini quad per loro, gonfiabili e quant'altro. Poi adesso siamo all'interno del capannone principale dove ci sono tutte le concessionarie che espongono i nuovi modelli e alcuni di essi sono nell'area loro attrezzata fuori, un'area test drive dove chi si accredita può provare le ultime novità in un percorso molto simpatico, con un guado finale. Abbiamo fatto delle prove in una pista scuola dove abbiamo fatto avvicinare al fuoristrada chi lo utilizza principalmente in città e quindi non può trovare queste difficoltà e questi ostacoli normalmente durante la giornata e in più la pista hard dove chi ha dei fuoristrada ben preparati, diciamo dei professionisti, si sono cimentati nel superare questi ostacoli nel migliore dei modi. Grazie a tutti!